La squadra ha perso contro i calabresi, ci si aspettava qualcosa di diverso soprattutto nella gestione della partita nel finale. Sì, perché quando siamo andati in vantaggi dovevamo chiudersi di più e essere più compatti, però la Reggina è una buona squadra e ci ha punito subito dopo la prima occasione che hanno avuto e poi dopo abbiamo mollato un po'. Due anni fa un grande campionato con la Vibresi, 13 gol, l'anno scorso 13 apparizioni con il Catania, quest'anno alla Juve Stabia. Che cosa ti ha spinto ad accettare la Juve Stabia e che cosa ti aspetti da questo campionato? Mi ha spinto il fatto che il mister mi voleva e tutto. Sono venuto qui per divertirmi soprattutto sul campo, far bene con la squadra e spero di fare tanti gol. Sotto il profilo atletico come ti senti? È constatata l'assenza di Diop per motivi comunque legati alla sostituzione di sabato o meglio di domenica? Saresti pronto a giocare al primo minuto? Sì, sì, sono io, sono a disposizione del mister e sono già pronto per giocare dal primo minuto. Come ti hanno accolto mister e gruppo? Benissimo, mi hanno accolto bene e per questo le ringrazio tanto. Allora, domenica a Reggio si sono viste un po' le tue caratteristiche, principalmente tu fai affidamento proprio sulla potenza, ma se ti volessi descrivere un po' qual è la posizione tua ideale qui in campo? La mia posizione ho seconda punta o punta centrale, posso farla. Posso fare anche l'esterno o sinistro, diciamo. Grazie a tutti.